La sicurezza dei nostri ragazzi alla luce dei recenti eventi sismici che hanno interessato anche la nostra regione è una priorità che non può attendere, a ribadirlo il sindaco Seri stamattina riferendo alla stampa in materia di adeguamento sismico delle scuole fanesi. In particolar modo oggi l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi ci ha guidato all'interno dell'istituto Gandiglio dove approfittando dello stop delle lezioni per la pausa pasquale un team di ingegneri e geologi stanno esaminando la struttura. Il primo passo è conoscere come è fatta la struttura, il secondo passo è individuare le attività da fare soprattutto nelle strutture in cemento armato, il terzo passo è quello di destinare soldi, fondi, raccoglierli magari a quelli che li dà lo Stato perché i comuni a volte non riescono a far fronte a tutto questo, noi però con serietà stiamo cercando anche di trovare risorse nostre. Gli esperti stanno effettuando prelievi di campioni in sezioni cilindriche del cemento armato, uno ogni 300 metri quadrati in corrispondenza delle strutture portanti che verranno esaminati per individuare gli interventi da mettere in pratica. La struttura risalente agli anni 60 non è antisismica, la normativa in materia risale infatti al 1983 ma grazie alle nuove tecnologie e ai giusti adeguamenti potrà diventarlo a tutti gli effetti. Tutto questo serve per capire la vulnerabilità sismica di questo edificio e per capire gli interventi che dovremo programmare da qui a qualche anno. Questo comune lo sta facendo prima che arrivasse la sensibilità dovuta al terremoto perché ogni anno dal 2015 da quando questa giunta è in campo ha fatto un'attività sistematica, un edificio all'anno e quindi partendo ovviamente da edifici più grossi e le scuole medie della città di Fano sono questi. Quindi serietà, competenza e anche tranquillità perché i risultati che stanno venendo fuori sono dei risultati che ci fanno stare tranquilli.